Prego a facoltà. Grazie Presidente, carissimi colleghi. Dopo il Qatargate, ovvero il più grande scandalo politico nella storia delle istituzioni europee, speravamo che venisse avviata una riflessione seria sul futuro democratico del Parlamento europeo. E voglio ringraziare il Presidente Glucksmann per la sua azione e per il suo equilibrio. Tutti noi ci siamo impegnati duramente per garantire, come il Parlamento, la Casa dei Popoli Europei, potesse essere un faro della democrazia, dello Stato di diritto ancora più luminoso. Ma Madame Loiseau, il Consiglio dei Topi l'abbiamo visto impegnato soprattutto a nascondere il fatto che questo scandalo era diffuso all'interno del gruppo dei socialisti. Eppure, al posto di chiudere le falle, il testo che si doveva occupare di come difendere le istituzioni dopo il Qatargate, è diventato per molti di voi lo strumento per aprire vecchie e nuove polemiche strumentali. Mi riferisco al fatto che avete accusato nuovamente l'Italia, la Lega, Matteo Salvini, per fatti dichiarati inesistenti dalla magistratura di uno Stato membro, uno Stato di diritto e sovrano qual è l'Italia. Un fatto inesistente che, partendo da un'indagine giornalistica, viene montato ad arte, da quella stessa sinistra che è sparita dalla relazione del Qatargate. Al posto di comprendere dagli errori, a partire dall'avere escluso quella che Simone Veil chiamava la natura pluralista della nostra Assemblea, la Commissione sulle ingerenze si è voltata dall'altra parte. Avete taciuto persino su ciò che è stato riportato da autorevoli giornalisti sul sistema del finanziamento del Qatar alle moschee in Europa, in sede di dibattito in Commissione. Nessuno vi ha chiesto di fare ammenda degli errori commessi. Vi si chiedeva solo di dare ai cittadini europei un motivo per partire insieme nella storia democratica delle istituzioni europee. Ma non ci siete riusciti. Ma non credete che i popoli europei e la storia non vi daranno mai torto.